Con questo tutorial vediamo come risolvere disequazioni fratte di secondo grado. Partiamo da questo esempio. Allora vado a porre numeratore denominatore maggiore di zero, ossia vado a fare lo studio del segno. Per quanto riguarda il numeratore ho una disequazione di secondo grado e quindi dovrò passare a un'equazione associata. Per quanto riguarda il denominatore è sufficiente dividere per sei ambo i termini ed ottenere x maggiore di zero. Adesso per quanto riguarda il numeratore passiamo all'equazione associata e la risolviamo. L'equazione di secondo grado associata a questa disequazione ha un delta uguale a zero, infatti qui sotto radice ottengo 4 meno 4, ottengo così una sola soluzione. Questo vuol dire che la parabola risulta tangente all'asse delle x proprio nel punto 1 che è soluzione di questa equazione. Questo significa che la parabola risulterà positiva sempre tranne nel valore 1 dove vale zero. Ora rappresentiamo graficamente lo studio del segno del numeratore e del denominatore. Per quanto riguarda il numeratore vado a fare questa rappresentazione grafica dove indico con la linea continua dove è positiva e con lo zero dove la parabola tocca l'asse delle x. Per quanto riguarda il denominatore ho x maggiore di zero, allora indico lo zero, dopo lo zero è positivo e prima dello zero ho la parte negativa. Ora vado a fare il prodotto dei segni. Più per meno ed ottengo meno, poi ho più per più ed ottengo più, poi ho più per più ed ottengo più. Osservo che nel valore 1 ho proprio zero. Ora vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa diseguazione risulta maggiore di zero e il maggiore di zero lo vedo qui e lo vedo qui, ossia quando x è compreso tra 0 e 1 e poi quando x è maggiore di 1. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che faccio è prendere questa x e portarla a sinistra. Ora eseguo il minimo comune multiplo. Osservo che qui ho 1 meno x quadro, ossia l'x quadro è negativa. Posso moltiplicare tutto per meno 1 per ottenere x quadro positiva. Ora vado a fare lo studio del segno andando a porre numeratore maggiore di zero e denominatore maggiore di zero. Per quanto riguarda il denominatore già risolta ho x maggiore di zero. Per quanto riguarda il numeratore ho una disequazione di secondo grado. Passa all'equazione associata e la risolvo. Ottengo due soluzioni. A questo punto vado a fare la rappresentazione grafica del numeratore e del denominatore. Per quanto riguarda il numeratore ho ottenuto due soluzioni nell'equazione associata. Quindi la parabola è fatta in questa maniera dove i punti di intersezione della parabola con l'asse delle x sono meno 1 e 1. Ricordo che all'esterno è positiva e all'interno è negativa e allora il grafico associato sarà questo più più e all'interno meno. Per quanto riguarda il denominatore ho una disequazione di primo grado che è x maggiore di zero. Quindi individuo lo zero dopo lo zero è positiva e prima dello zero è negativa. Ora vado a fare il prodotto dei segni. Più per meno ed ottengo meno. Poi ho meno per meno e vado a scrivere più. Poi ho meno per più e scrivo meno. Ed infine ho più per più e quindi vado a scrivere più. A questo punto vado a vedere la domanda. La domanda è questa, ossia quando ho separato il numeratore dal denominatore. Allora mi si chiede quando è che questa disequazione è maggiore di zero. Il maggiore di zero lo vedo qui e lo vedo qui, ossia quando x è compreso tra meno 1 e 0 o quando x è maggiore di 1. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che vado a fare è prendere questa quantità e portarla a sinistra. Qui ho un 3 meno x, quindi posso prendere questo meno, portarlo qui all'interno e scrivere x meno 3. Adesso vado a fare il minimo comune multiplo che è dato da x più 1 per x meno 3. Svolgo ora queste due moltiplicazioni e vado a riscrivere il numeratore in forma normale. Ottengo così questa disequazione scritta in forma ridotta. A questo punto vado a porre il numeratore maggiore di zero e il denominatore maggiore di zero. Vado ora a risolvere il numeratore e il denominatore. Il numeratore è una disequazione di primo grado e quindi scrivo direttamente x maggiore di 2. Per quanto riguarda il denominatore ho una disequazione di secondo grado e passo quindi all'equazione associata. Ho il prodotto di due fattori uguali a zero e allora vado a porre questo fattore uguale a zero e quest'altro fattore uguale a zero ed ottengo x uguale a meno 1 ed x uguale a 3. A questo punto vado a fare la rappresentazione grafica del numeratore e poi del denominatore. Per quanto riguarda il numeratore è una disequazione di primo grado quindi metto più dopo il 2 e meno prima del 2. Vediamo ora il denominatore. Ho ottenuto due soluzioni che sono meno 1 e 3. Allora la parte positiva sarà esterna e la parte negativa sarà interna. Ecco perché qui ho messo più e all'interno tra meno 1 e 3 ho messo meno. A questo punto vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione risulta maggiore di zero. Ora vado a fare il prodotto dei segni ed ottengo meno più meno più e vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è maggiore di zero. Il maggiore di zero lo vedo qui e lo vedo qui. Ossia quando x è compreso tra meno 1 e 2 oppure quando x è maggiore di 3. Vediamo quest'altro esempio. Allora prendo questa quantità e la porto a sinistra. Ora vado a fare il minimo comune multiplo e lo si ottiene moltiplicando x per x più 1. Eseguo ora questa moltiplicazione e vado a semplificare x con meno x. Ora vado a fare lo studio del segno andando a porre numeratore e denominatore maggiore di zero. Ottengo due disequazioni di secondo grado allora passo ad entrambe all'equazione associata e le risolvo tutte e due. Per quanto riguarda la prima equazione ottengo un delta minore di zero quindi vuol dire che questa equazione risulta impossibile. Per quanto riguarda la seconda equazione andando a porre questo fattore uguale a zero e questo fattore uguale a zero ottengo come soluzioni zero e meno uno. Adesso vado a fare lo studio del segno. Per quanto riguarda la prima disequazione ottengo sempre più perché avendo ottenuto un delta minore di zero vuol dire che la parabola non interseca mai l'asse delle x e quindi è sempre positiva. Ecco perché qui ho tirato una linea continua. Per quanto riguarda la seconda disequazione ottengo due soluzioni che sono meno uno e zero e le vado a rappresentare meno uno e zero. La parte positiva è all'esterno e la parte negativa è all'interno. Vado a fare il prodotto dei segni e adesso vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è minore di zero e il minore di zero lo vedo qui ossia quando x è compreso tra meno uno e zero. Vediamo quest'altro esempio. Prendo questa quantità e la porto a sinistra. Faccio ora il minimo comune multiplo e lo ottengo moltiplicando x più uno per x meno uno. Eseguo ora queste due moltiplicazioni. Sommo ora 5x quadro più x quadro ed ottengo 6x quadro e poi faccio 5x meno x ed ottengo meno 4x. Ora vado a porre numeratore e denominatore maggiore di zero. Sia il numeratore che il denominatore sono delle disequazioni di secondo grado. Passo quindi all'equazione associata e la vado a risolvere. Per risolvere questa equazione metto in evidenza una x e quindi poi vado a scrivere x uguale a zero ed ottengo la prima soluzione e poi 6x meno 4 uguale a zero da cui x uguale a due terzi. Per quanto riguarda la seconda equazione vado a porre questo fattore e questo fattore uguale a zero e quindi ottengo x uguale a meno 1 e x uguale a 1. Vado ora a fare lo studio del segno del numeratore e del denominatore. Per quanto riguarda il numeratore avendo ottenuto zero e due terzi come soluzioni le indico in figura. La parte positiva è all'esterno e la parte negativa è all'interno. Per quanto riguarda il denominatore ho ottenuto due soluzioni che sono meno 1 e 1. Le vado a rappresentare in figura. La parte positiva è all'esterno e la parte negativa è all'interno. Vado ora a fare lo studio del segno. Più, meno, più, meno, più. Ora vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è minore di zero e il minore di zero lo vedo qui e qui, ossia quando x è compreso tra meno 1 e 0 e quando x è compreso tra due terzi e 1. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che vado a fare è il minimo comune multiplo. Pongo ora numeratore e denominatore maggiore di zero. Ottengo due disequazioni di secondo grado, passo all'equazione associata e vado a risolvere. Per quanto riguarda la prima equazione ottengo un delta qui minore di zero. Allora vuol dire che quando devo andare a fare lo studio del segno devo mettere sempre una linea positiva. Per quanto riguarda la seconda disequazione, passando all'equazione associata in equazione di tipo pura, portando il meno 4 a destra, mi rendo conto che ottengo un'equazione impossibile e allora anche in questo caso devo mettere sempre una linea positiva. Allora vuol dire che il numeratore e denominatore sono sempre più e allora lo studio del segno è sempre positivo. Ora vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è maggiore di zero. Il maggiore di zero lo vedo sempre, allora la risposta sarà r. Vediamo quest'altro esempio. Porto questa x a sinistra e faccio il minimo comune multiplo che è dato da 2 per x. Ora sommo 21 con meno 6x ed ottengo 15x. Siccome che il coefficiente di x quadro è negativo, conviene moltiplicare tutto per meno 1 e da maggiore passo a minore. Pongo ora numeratore e denominatore maggiore di zero. Per il denominatore basta dividere questo membro e questo membro per due ed ottenere subito x maggiore di zero. Per il numeratore ottengo una disequazione di secondo grado, passo all'equazione associata e la vado a risolvere. Ottengo due soluzioni che sono 8 e meno un mezzo. Vado ora a fare la rappresentazione grafica dello studio del segno. Per il numeratore vado a mettere il più all'esterno e il meno all'interno in quanto ho ottenuto un delta maggiore di zero e il coefficiente di x quadro è maggiore di zero. Per quanto riguarda il denominatore ho una disequazione di primo grado, individuo lo zero, metto più dopo lo zero e meno prima dello zero. Faccio ora il prodotto dei segni meno più meno più e vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è minore di zero e il minore di zero lo vedo qui e lo vedo qui, ossia quando x è minore di meno un mezzo oppure quando x è compreso tra zero e otto. Vediamo quest'altro esempio, porto questa quantità a sinistra e vado a fare il minimo comune multiplo. Eseguo ora queste moltiplicazioni e poi vado a riscrivere il numeratore in forma normale. Ora pongo numeratore e denominatore maggiore di zero. Sia il numeratore che il denominatore sono delle disequazioni di secondo grado allora passa all'equazione associata e le vado a risolvere. Per quanto riguarda il numeratore ottengo un'equazione di secondo grado che risulta impossibile in quanto il delta è minore di zero. Per il denominatore passando all'equazione associata vado a porre questo fattore uguale a zero e questo fattore uguale a zero da cui ottengo x uguale a zero ed x uguale a meno un mezzo. Vado ora a fare la rappresentazione grafica dello studio del segno. Per il numeratore, visto che il delta è minore di zero, vuol dire che devo tirare sempre una linea positiva perché la parabola non interseca l'asse delle x. Allora vuol dire che la parabola risulterà sempre positiva. Per quanto riguarda il denominatore ottengo due soluzioni che sono zero e meno un mezzo e le vado a rappresentare in figura. La parte positiva è all'esterno, la parte negativa è all'interno. Faccio ora il prodotto dei segni ed ottengo più, meno, più. Vedo ora la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è minore di zero e il minore di zero lo vedo qui all'interno, ossia quando x è compreso tra meno un mezzo e zero. Vediamo questo altro esempio. Allora prendo questa quantità, la porta a sinistra, e vado a fare il minimo comune multiplo. Osservo che in questo denominatore posso mettere in evidenza un 3 e riscrivere 3 che moltiplica x meno 1. In questo modo il minimo comune multiplo mi risulterà più semplice e vado a scrivere 3 per x meno 1 per x più 1. Svolgo ora queste moltiplicazioni e poi vado a riscrivere il numeratore in forma normale. Osservo che nel numeratore ho tutti i multipli di 2, quindi posso dividere per 2. Per quanto riguarda il denominatore ho questo 3 a denominatore che può essere semplificato se moltiplico per 3 di qui e di qui. In questa maniera il 3 lo vado a semplificare. Ora vado a fare lo studio del segno andando a porre il numeratore maggiore uguale a 0 e il denominatore maggiore di 0. Ottengo due disequazioni di secondo grado, allora passo all'equazione associata e le risolvo. Per la prima equazione, una volta che la vado a risolvere, ottengo due soluzioni che sono meno 2 e un mezzo. Per la seconda equazione, invece andando a porre questo fattore uguale a 0 e questo fattore uguale a 0, ottengo 1 e meno 1 come soluzioni. Adesso vado a fare la rappresentazione grafica del numeratore e del denominatore. Per lo studio del segno del numeratore ho la parte positiva all'esterno, la parte negativa all'interno. Ho messo dei pallini a meno 2 e a un mezzo perché qui ho il maggiore uguale. Per il denominatore vado a rappresentare la parte positiva che è questa, esterna ai valori meno 1 e 1 e la parte negativa è all'interno. Ora vado a fare lo studio del segno, più, meno, più, meno e più. E poi vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è minore uguale a 0. Il minore uguale lo vedo qui e lo vedo qui. Allora vado a scrivere che x deve essere compreso o uguale tra meno 2 e meno 1, vel x compreso uguale tra un mezzo e 1. Vediamo quest'ultimo esempio. Allora prendo questa quantità, la porta a sinistra e vado a fare il minimo comune multiplo. Ora vado a semplificare meno x cubo con x cubo e poi sommo x quadro con meno 2x quadro. Al numeratore è tutto negativo quindi posso moltiplicare per meno 1 e da maggiore uguale vado a scrivere minore uguale. Ho semplificato a denominatore il valore 3 moltiplicando ambo i membri per 3. In questa maniera mi resta solo x quadro. Ora vado a fare lo studio del segno andando a porre numeratore maggiore uguale a 0 e denominatore maggiore di 0. Passa l'equazione associata nel numeratore visto che ho due disequazioni di secondo grado e poi le vado a risolvere. Per quanto riguarda il numeratore ottengo x alla seconda più 6 uguale a 0 e quindi portando il 6 dall'altra parte ottengo x alla seconda uguale a meno 6. Quindi ottengo una equazione impossibile. Questo significa che il delta è minore di 0 e dando un'interpretazione grafica a quello che ho ottenuto vuol dire che la parabola risulta sempre positiva. Allora vuol dire che questa quantità è sempre maggiore di 0. Dal punto di vista grafico vado a disegnare una linea continua per indicare che la parabola è sempre positiva e quindi questa diseguazione è sempre maggiore di 0. Per quanto riguarda la seconda equazione ottengo x uguale a 0, cioè ho una sola soluzione. Allora la parte positiva sarà prima di 0, dopo di 0 e a 0 vale 0. Siccome che questa quantità è un denominatore a 0 devo mettere nella rappresentazione grafica dello studio del segno una x per indicare che questo valore non lo posso prendere. Ora vado a fare il prodotto dei segni ed ottengo più e più. E poi vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa quantità è minore o uguale a 0. Nello studio del segno ho sempre più e allora vuol dire che questa diseguazione risulta impossibile. E con questo termino il tutorial su come poter risolvere diseguazioni fratte di secondo grado. Grazie. 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 Grazie.